Ciao a tutti, vediamo delle frasi che le persone negative usano per abbassarti l'autostima. Allora, intanto tutte le persone che ti giudicano devi mandarle a quel paese, cioè non devi temere il giudizio degli altri, perché le persone che esprimono dei giudizi negativi su di te in realtà stanno proiettando semplicemente ciò che sono loro su di te. Quindi questo devi tenerlo presente, quindi fregatene altamente di tutto quello che ti dicono gli altri, fregatene. Sono soltanto espressioni di ciò che hanno dentro loro, quindi devi fregartene, questo è il primo punto. Proprio altamente, come se fosse aria fritta, diciamo così. Qualunque giudizio che venga espresso su di te devi prenderlo, devi entrare di qua e uscire di qua, non devi lasciare traccia dentro di te. Soprattutto quei giudizi che tendono ad abbassarti l'autostima. Uno che ti dice, non sai nemmeno di cosa stai parlando, è una persona che ti dice che ti vuole abbassare l'autostima. E allora tu, la cosa migliore è prenderli in giro. Uno così e prenderli in giro, di vabbè, meno male che ci sei tu che sai di quello di cui stai parlando, per cui continua a parlare a Vanvera, che magari Vanvera ti risponde, per dire, no? Lo prendi in giro in questo modo, cioè, devi prenderli in giro. Cioè, uno che dice, è tutta colpa tua, tu dici, sì è vero, ma sono contento, anzi, guarda, la prossima volta farò di peggio, perché tu non ti meriti niente. E lì rigiro subito la frittata da questo punto di vista. Se una persona che ti dice, ad esempio, un'altra frase, tu non vali niente, ma devi semplicemente rimandare l'emittente, probabilmente stai parlando di te stessa, probabilmente stai parlando di te stesso, a me non me ne sbatta assolutamente niente di quello che tu dici e non me ne frega niente. Se una persona, ad esempio, ha un'altra frase tipica, dice, ma tu sei un insicuro, e qua c'è subito la risposta, ti serve la palla al bazzo, no, guarda, sono talmente sicuro che sono sicuro di mandarti a cagare. Questa è la frase di toglierti dei piedi, mandarti fuori dai maroni, dalla mia vita, levatene, vai via. Ecco, queste sono frasi e cui dimostri appunto la sicurezza. Frasi negative che le persone usano per, diciamo, abbastanza autostima. Qui devi reagire, mettere subito l'antidoto, perché se tu le lasci entrare dentro, queste frasi, sono come un veleno che piano piano ti corrode e finisci per crederci. Quindi, assolutamente vietato credere a quello che dicono gli altri. Bisogna fregarsene, assolutamente. Devi pensare per te stessa, per te stesso. Quello che dicono gli altri deve essere veramente aerea fritta. Devi fregartene, fregartene assolutamente. Come se parlassero, diciamo, agli appendiabiti, non so, no? Devi neanche prendere in considerazione. Bene, per questo video è tutto. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Iscriviti al canale e anche al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto i link in descrizione. Ciao!